Mario Balotelli continua a far parlare di sé. Il calciatore è stato trasferito in Inghilterra, nello specifico a Liverpool, dove cercherà di dare il massimo. Lavoro a parte, la sua vita privata è sempre stata al centro delle cronache, occupando tutte le pagine dei giornali di gossip. Di lui si è parlato soprattutto per la storia d'amore con Raffaella Fico e per poi per la nascita di sua figlia. Dopo la loro ortura, a Balotelli sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui spicca quello con Fanny Neguesha, modella belga di origini africane che aveva fatto perdere la testa al calciatore. Dopo essersi lasciati, dunque, secondo i ben informati, i due sarebbero tornati insieme e si sarebbe riaccesa alla passione. Balotelli. Su di me solo noiose menzogne permettere a tacere tutte le male lingue e soprattutto la indiscrezione sulla sua vita privata, Mario Balotelli avrebbe ricominciato a frequentare la bellissima Fanny con la quale, dunque, avrebbe trascorso ore di coccole e passione. Il calciatore, infatti, dopo aver giocato con il Liverpool, lo scorso sabato, avrebbe preso un volo per l'Italia dove avrebbe riabbracciato famiglia ed amici, per poi recarsi in una discoteca dove avrebbe incontrato alcuni compagni di squadra del Milan oltre che Barbara Berlusconi, amministratore delegato della squadra rossonera. Successivamente Balotelli si sarebbe recato a Brescia dove Fanny lo avrebbe raggiunto con un volo proveniente dalla città di Bruxelles. Infine è arrivato un commento del calciatore Mario Balotelli che su Twitter ha voluto smentire tutte le indiscrezioni sul suo conto. Qualsiasi presunto flirt, che mi è stato associato, ci tenevo solo a chiarire che sono assolute, ripetitive e noiose menzogne. Buonanotte. Chi se ne frega.